Ladri ancora in azione a Calabritto. Ancora una volta la banda di malviventi con volti travisati ha compiuto le sue azioni nella zona periferica del paese. Almeno cinque le abitazioni prese di mira tra i rioni di Lucina, Serra, Bralia, Piedelmonde, San Mauro e Castruzzo. Probabile che si tratti di elementi dello stesso gruppo che ha effettuato altre scorribande nei giorni scorsi, quando nel mirino dei ladri furono altri cinque appartamenti di via Serra e dintorni. Indagini dei carabinieri intervenuti sul posto per risalire all'auto con cui i malviventi arrivano e scappano via da Calabritto. Si sospetta una BMW con targa rubata, ma non è escluso che ci siano anche altre autovetture che scaricano gli esperti topi di appartamento. Probabile che si tratti di pregiudicati già noti alle forze dell'ordine, provenienti dalla Piana del Sele, abiti a muoversi su qualsiasi strada o qualsiasi tipologia di abitazioni, da palazzi con balconi e finestre bassi a ville isolate. C'è tanta preoccupazione tra i cittadini, alcuni si stanno organizzando corronde fai-da-te, perché si temono altre scorribande e si chiede un potenziamento della sicurezza sul territorio, almeno nei punti strategici, per evitare di trascorrere altre notti insonni come quelle di questi giorni. Era da tempo che non si registrava infatti un'emergenza a questi livelli a Calabritto. Qualche mese fa tocco a Colliano e Oliveto sul versante salernitano della Valle del Sele, mentre sempre qualche giorno fa nel mirino dei ladri ci sono state alcune abitazioni nelle zone di campagna di Lioni.